Buon pomeriggio e benvenuti alla Digital School di Aruba Business. Un percorso in cinque tappe che io con i miei colleghi di Search on Consulting faremo esplorando i vari ambiti del marketing digitale di come sta cambiando, delle innovazioni che sta avendo. Siamo alla seconda edizione di questo percorso, rinnovato rispetto all'anno scorso e adeguato soprattutto per prendere dentro tutta la grandissima innovazione che negli ultimi 12 mesi ha portato nel nostro mercato l'intelligenza artificiale. Vorrei fare innanzitutto un test da casa se qualcuno vuole provare la chat e confermarci che si sente tutto così che della regia mi possono dare feedback. Ok, si sente tutto. Allora, inizierei raccontandovi brevemente questo percorso che voi potete sempre interrompere facendo domande. C'è una chat nel sito, la aprite in basso a destra cliccando sulla nuvoletta, se avete bisogno chiedete un'assistenza, ma aprendo la nuvoletta si apre la chat e potete lasciarci delle domande che possiamo gestire durante quest'ora e mezzo di chiacchierata o alla fine. Partirò oggi io con una lezione un pochino più ampia dove parleremo di digital marketing integrato e come sta cambiando il funnel di conversione da un lato e dall'altra parte come cambiano gli strumenti per misurare e analizzare e progettare interventi sul funnel di conversione, quindi su come sta cambiando la web analytics. È un percorso che tiene in considerazione da una parte quindi le abitudini di acquisto degli utenti, di come cambieranno, dall'altra come dovranno strutturarsi le aziende in questo nuovo mercato, come dovranno strutturarsi i team digital in questo nuovo mercato per poi capire che innovazioni ci sono state lato web analytics. Quindi abbiamo visto pochi mesi fa il totale passaggio a GA4, che implicazioni ha avuto, che implicazioni sta avendo, come dobbiamo strutturarci per essere pronti nel futuro. Ogni mese faremo un appuntamento, il prossimo mese, il 24 ottobre, sarà la volta di Giorgio Taverniti, uno dei più noti formatori sulla SEO. Lui si occuperà di raccontarci come cambia la SEO e che direzione, in che maniera Google sta interpretando l'intelligenza artificiale, quale sarà la SEO che ci troveremo a dover affrontare in futuro. Il 28 novembre sarà il turno di Francesca Bernini, social media specialist, che si concentrerà su un tema che è stato molto richiesto, in particolare come utilizzare l'e-commerce e come abbinarlo ai social. Cioè quindi tutte quelle funzionalità gratuite a pagamento, quei settaggi che sono presenti nei social media che permettono di sviluppare l'attività di e-commerce, sia nella parte alta, quindi per la parte di awareness, sia nella parte bassa, quindi nella parte proprio direttamente di vendita. Passando per la lead generation e tutte le opportunità che i social ci hanno dimostrato di poter avere nella vendita online. Iniziamo il nuovo anno col quarto episodio. Si tratterà di Alessio Pomaro, si occupa di intelligenza artificiale e ci racconterà come l'intelligenza artificiale entra nell'operatività, nei task dei team di digital marketing. Stiamo sperimentando approcci sull'intelligenza generativa, per esempio per scrivere parti di contenuto di un sito molto sensibile di lato SEO, piuttosto che per migliorare un feed di Google Shopping che non è perfetto, piuttosto che nell'avere spunti o creare parte di contenuto lato social media, piuttosto che sull'utilizzo di algoritmi predittivi di lato web analytics, eccetera. Un grande mondo, quello dell'intelligenza artificiale. Stiamo cominciando a vedere che cosa ci sarà nel futuro. Con Aruba Business vogliamo raccontare che quali saranno le novità più impattanti nel mercato del marketing digitale, portando degli esempi concreti di attività che si possono fare. E chissà che cosa si potrà fare il 17 gennaio, visto la velocità con la quale questi algoritmi e questi tool si sviluppano. Chiuderà il percorso la seconda edizione, Michela Lombardo, che si occuperà di un altro argomento molto richiesto ed è TikTok per le aziende. Ossia, al netto del fenomeno, che sempre più sbagliando, pensiamo associato soltanto ai ragazzini, che cosa c'è dentro l'economia dei creator, cosa possono fare le aziende, come si può sfruttare al meglio, qual è il vero target che possiamo andare ad intercettare. Quindi una grossa panoramica in questi sei mesi, da oggi al 28 febbraio, che parte dalla web analytics e dall'analisi delle evoluzioni del funnel, passa per la SEO, utilizza il social media in ambito e-commerce, torna sull'intelligenza artificiale per darci concretezza su quelle che possono essere le novità e si completa su uno strumento specifico, ma di grandissimo richiamo, alle quali le aziende sono sempre più interessate, che è TikTok utilizzato in un contesto business. Ma torniamo a noi. Quindi, la prima puntata di questa seconda edizione vuol parlare di come sta cambiando il funnel di conversione e in parallelo, ma quasi fossero due ambiti della stessa medaglia, che cosa sta facendo la web analytics per inseguire questo trend legato al funnel di conversione. Ora, parliamo dell'approccio classico, quindi il funnel che in letteratura si è sempre chiamato AIDA, quindi dalle prime lettere dei primi quattro step. L'avrete visto e rivisto, una parte di awareness, quindi faccio sapere alle persone che esiste la mia azienda o che esiste il mio prodotto e servizio, sotto uno step di interesse, quindi io so che la Nike vende scarpe, poi a un certo punto inizio a fare running e mi servono delle scarpe da running, ancora sotto la fase di desiderio, adesso mi voglio comprare proprio delle scarpe e sono indeciso tra tre, quattro scarpe, quindi vorrei proprio vedere se riesco a comprarmene quelle della Nike, quindi se c'è il modello giusto, il colore che mi piace, se garantiscono la performance di corsa per me ideale, vado proprio nel dettaglio e poi c'è l'ultimo step del funnel, quello dell'azione, io decido che voglio comprare quel paio di scarpe e a quel punto bisogna vedere se il sito me lo permette, se lo riesco a fare a livello di UX, se lo riesco a fare a livello di metodi di pagamento, se lo riesco a fare sul sito della Nike o se mi conviene andare da un reseller, eccetera, eccetera, quindi questo è lo step classico che avrete visto centinaia di volte in qualsiasi percorso di marketing che abbiamo sempre conosciuto. In più, nel digitale, è quanto mai importante la parte di retention, quindi una volta che ho acquisito il cliente con il primo acquisto, per me è fondamentale sviluppare secondi, terzi, quarti e quinti acquisti. Come saprete, ormai il mercato del, tutti i mercati del digitale sono ormai saturi e non è pensabile un business che rimanga sostenibile con la prima vendita. Quindi, il vero KPI, dovendo scegliere un numero per capire se un e-commerce sta andando bene o no, se un servizio sta andando bene o no, nella parte digitale, è vedere non tanto il primo acquisto quanto il tasso di secondi acquisti, la capacità di retention, quant'è il valore che riesco a generare da un utente. Ok? Questi cinque step sono la maniera nella quale in letteratura classica si è sviluppato la spiegazione e il racconto di come un utente passa dal non conoscerci ad essere una persona qualsiasi a conoscere ad essere interessato, desiderare il nostro prodotto, agire e poi se siamo bravi. rimanere con noi. Il marketing digitale integrato, il marketing digitale non è altro che progettare queste freccette verdi, quindi capire quali sono quelle azioni che possono prendere un utente che è in uno stato e portarlo un pochino più in basso. Quindi classicamente funzionava così. Tu dovevi riuscire a progettare e il lato web analytics a misurare l'impatto di queste freccette verdi che abbiamo messo. Quindi le pianifico, le provo, vedo che cosa funziona, vedo che cosa non funziona, e miglioro nel tempo il mio approccio al marketing, in particolare il digitale. Dico digitale, qual è il vantaggio del digitale? È che questo aspetto di misurazione è tipicamente molto più veloce rispetto al marketing classico, quindi uno dei vantaggi enormi del digitale e anche il motivo per il quale vediamo il funnel è attaccato, parleremo anche di web analytics, è che più sono vicini l'azione di marketing e la misurazione più siamo bravi a imparare dai nostri errori o a sfruttare le cose nelle quali siamo bravi. Quindi queste frecce esistono e possono funzionare soltanto se le sappiamo misurare per capire qual è l'ottimo. E questo diciamo è la nozione classica di funnel. Questa versione si è poi evoluta tipicamente perché poi i punti di contatto dell'utente sono aumentati tantissimo quindi è veramente difficile sapere quando l'utente con il cellulare in mano per esempio vuole entrare in contatto con noi. Google ha sviluppato negli ultimi anni un concetto alternativo di percorso di acquisto che usa termini leggermente differenti che sono se vogliamo una generalizzazione del funnel e un adattamento del funnel a un contesto più realistico ossia quasi mai ormai il vostro percorso di acquisto è così lineare lo è spesso per i prodotti che per voi sono molto importanti quindi per l'acquisto di una casa per l'acquisto di un'autovettura forse per l'acquisto di un elettrodomestico molto costoso o di qualche cosa che vi appassiona molto allora c'è una grossa fase di awareness interest desire consideration ed un funnel molto ben chiaro ma per la maggior parte degli acquisti che fate online pensate a tutta l'elettronica di consumo pensate al al prodotto che comprate perché vi serve pensate a quando vi si rompe l'asciugacapelli o a quando rimanete per strada e vi serve un gommista il cellulare e in generale queste connessioni costanti che abbiamo l'abitudine di una connessione costante fa sì che noi non siamo più così lineari ma ci possiamo permettere dei percorsi completamente diversi quindi si parte sempre da una mega esposizione quindi voi comunque sapete più o meno nella vostra testa seconda se vi appassiona oppure no quelli che sono i brand che possono fare scarpe da running quindi immediatamente se vi mostro 10 scarpe da running mi sapete dire se una scarpa da running è per voi di marca o se questa scarpa da running è per voi non di marca perché banalmente non ne conoscete la marca e chiaramente qui c'è una parte di esposizione al al prodotto che è fondamentale perché voi all'inizio potreste dare più credito a una scarpa che a un'altra rispetto al fatto che voi associate quella marca alle scarpe da running a un certo punto c'è il trigger la volontà di ma vediamo se domani vado a correre ma questa volta mi voglio proprio iscrivere in palestra ma ho un amico che va a correre e gli ho detto che vado con lui mi servono le scarpe e inizia in quel momento che per questa innovatoria è imprevedibile e iniziate a fare una ricerca su google o iniziate a fare una ricerca su tiktok inizia poi una fase dove voi costantemente esplorate e valutate i prodotti quindi fate la prima ricerca trovate 10 prodotti ne selezionate 2-3 perché magari vi rendete conto che alcuni sono troppo costosi alcuni non arrivano in tempo alcune sono troppo brutte altre hanno un colore che non vi piace quando siete quando avete portato la scelta dalle 10 scarpe alle 3 scarpe allora c'è un altro momento magari di esplorazione perché diventate competenti nella scelta delle scarpe da running quindi sapete che quel prodotto è molto interessante volete vedere se c'è una versione successiva o una versione precedente quindi risparmiate un pochino scusate e continua questo percorso di esplorazione e valutazione a seconda di quanto avete fretta a seconda di quanto per voi è importante l'acquisto a seconda di quanto vi appassiona quell'acquisto perché se non vi interessa niente dovete comprare una matita prendete la prima o la più economica che capita se siete un amante del disegno per scegliere una matita ci potete mettere due settimane stessa cosa con il running con una canna da pesca o con il fornitore di pneumatici poi avete deciso che comprate uscite dall'ultimo ciclo di valutazione ed entrate nell'esperienza quindi entrate magari sul sito decidete che volete comprare e infine acquistate quindi questo è quello che viene definito un messy middle perché è un messy middle e non è più un funnel classico perché Google ci dice suffragato da studi cercate messy middle su Google e troverete tutto lo studio di Google che lo dimostra che non c'è più linearità nello scendere questo percorso le persone mentre lo scendono continuano a aumentare e diminuire i prodotti più volte e questo trigger non arriva quando lo decidiamo noi in una parte del funnel ma può essere che c'è bisogno di un asciugacapelli anche se non ho mai avuto condizioni di quali possono essere le migliori marchi di asciugacapelli e non ho idea di come sceglierlo quindi questo è un modello che sembrava sembra ma appare meglio una realtà come quella in cui viviamo di persone costantemente connesse e molto indipendenti nelle fasi di valutazione e esplorazione quindi la lettura classica di questo funnel di questo nuovo strumento era esposizione cerchiamo di esserci sempre rispetto al nostro audience di riferimento trigger cercare di avere un contenuto uno strumento una creatività che proprio quando serve una pubblicità su google ads proprio quando serve possa fare sì che l'utente scelga anche la mia scarpa tra le prime dieci che sta valutando quindi chissà quante sessioni farà dopo sul sito prima di comprare parte una parte di esplorazione dove io raccolgo quante più opzioni d'acquisto valutazione riduco le opzioni di esposizione e poi successivamente acquisto volendo non sono così dissimili questi due modelli quindi l'esposizione è quasi simile a una moderna awareness la parte di interesse è quasi simile a una moderna esplorazione la parte di desiderio è quasi simile a una moderna valutazione e di esperienza e acquisto è molto simile alla parte di action quindi non è una rivoluzione totale ma è la consapevolezza che l'utente è molto più imprevedibile e da qui il termine messy middle una traduzione impropria potrebbe essere quella confusione che c'è lì in mezzo ma anche il mezzo confuso che c'è da quando l'utente ha bisogno delle scarpe da running dell'asciugacapelli della bicicletta elettrica quando poi decide di acquistarla ma questo approccio rinnovato da google com'è che cambia ulteriormente sta arrivando l'intelligenza artificiale è entrata in maniera prepotente nelle nostre vite ma soprattutto è entrata nei percorsi di acquisto degli utenti e allora che cosa sta succedendo a questo messy middle e a che cosa ci dobbiamo preparare beh voi pensate a un mondo nel quale voi non cercate biciclette elettriche ma dite cercami biciclette elettriche che possono fare 5 miglia poi chiedete a google fammi fare delle domande ulteriori come posso valutarle dal design dal colore voglio che siano capaci di farmi fare una salita e voi cominciate una discussione con google che vi mostra tutte le biciclette elettriche per come parlereste quasi con un commesso e vi guida nei criteri di scelta delle biciclette elettriche e vi fa vedere le immagini i colori e voi potete di volta in volta chiedergli sempre più informazioni e lui vi aiuta in questa nuova fase di raccolta dei requisiti e definizione in un contesto di questo tipo questa visione è stata lanciata negli Stati Uniti da google c'è un'altra frase che noi non possiamo lasciare cadere del questo è un articolo del 4 settembre quindi di poco fa da parte di uno dei cofondatori di DeepMind che è diventata sostanzialmente la divisione di google per l'intelligenza artificiale e se ce lo dicono loro ci possiamo credere che ci dice guardate che nei prossimi 5 anni ma in parte è già così tutti noi avremo un assistente personalizzato che sarà il nostro responsabile dei rapporti con gli altri che ci guiderà nei processi di acquisto e questa sarà veramente una rivoluzione sul mondo del lavoro cioè noi adesso non siamo neppure in grado di immaginarci come saranno certi lavori tra i robot che faranno le cose più ripetitive e la parte di servizi che invece verrà sempre più automatizzata e dove il lavoro si dovrà concentrare veramente sul valore aggiunto ma ne parleremo in futuro la cosa interessante per me è raccontarvi farvi notare come tutti questi strumenti ci siano spingendo e farci dire guardate che ci saranno degli assistenti che saranno molto vicini a voi e allora se io sarò abituato per prendere l'appuntamento dall'estetista piuttosto che per accordarmi sulla cena con gli amici piuttosto che per trovare il percorso migliore per arrivare in ufficio piuttosto che per scegliere che musica ascoltare una volta che sono abituato a farlo fare al mio assistente AI chiamiamolo assistente AI ma dei nomi praticamente li hanno già sarà così importante per me sapere prima quali sono le scarpe di marca e quali no oppure mi affiderò al mio super commesso al mio super assistente e non mi servirà più cercare per esempio Nike quando ho bisogno di scarpe da corsa ma potrò andare direttamente a esprimere il mio bisogno al mio assistente alla mia barra di ricerca di Google e poi sarà la barra di ricerca di Google a propormi i prodotti più interessanti per me questa cosa è una grande rivoluzione sarà una grande rivoluzione nella parte alta del funnel meno ricerche brand meno importanza anche nell'essere un brand super posizionato non sto parlando di tenere i clienti che hai quello sarà sempre altrettanto importante ma meno importanza nel brand per trovare persone nuove molta più importanza invece nel riuscire a essere il brand consigliato da questi assistenti noi abbiamo avuto già un'ondata di assistenti pensate a tutti gli Alexa a tutti gli smart speaker che abbiamo messo nelle nostre stanze e spesso adesso lasciamo e se utilizziamo ci siamo messi in casa una mega intelligenza artificiale che doveva cambiare la nostra vita non si sa come e poi sono diventate delle sveglie sostanzialmente o degli speaker per la musica ecco pensate adesso ad avere lì dentro cosa che sostanzialmente è un'opzione molto rapida un chat GPT un assistente vocale che vi conosce perfettamente che sa tutti gli appuntamenti che avete tutte le passioni che avete che potrà rispondere per voi e gestirvi task complessi aiutarvi a spacchettare task complessi in task meno complessi andiamo un pochino avanti in questo in questa analisi del nuovo funnel in questo nuovo messy middle e pensate ai trigger c'è stata una prima rivoluzione del funnel che è stata legata all'arrivo del mobile quando è arrivato il mobile si è capito e google per prima ha fatto letteratura in merito passando da un'idea organizzata di funnel quindi mi serve un asciugacapelli devo andare al centro commerciale a cercare quali sono i asciugacapelli che ho davanti mi si rompe la lavatrice stesso processo devo comprarmi un paio di scarpe stesso processo era sempre quello il processo il mobile ha creato un mondo pieno di momenti quindi dove io ora ho bisogno di una cosa e posso cercarla immediatamente da ovunque adesso grazie all'intelligenza artificiale ci saranno delle ricerche dei percorsi di ricerca ancora più strani ancora più innovativi soprattutto le giovani generazioni nasceranno pensando in questa maniera ma presto ci stiamo adeguando anche noi google ci dice che stanno aumentando tantissimo le ricerche per immagini quindi dove io cerco l'immagine del prodotto per sapere che prodotto è o per sapere se posso comprarla anch'io arriveranno le ricerche chiamate multimodali quindi faccio una foto a una camicia che mi piace e gli chiedo scusami ma c'è per caso c'è per caso dei calzini con questa fantasia e google mi riesce a tirar fuori la miglior selezione di calzini con la selezione della fantasia della camicia ti devono piacere certe camicie ti devono piacere certi calzini assolutamente sì ma le possibilità d'uso sono incredibili pensate a fare la foto un altro esempio fa la foto di una bicicletta e gli dice mi aiuti ad aggiustare questa bicicletta oppure fa la foto a una scarpa da running e dirgli mi consigli qualche cosa di simile ma meno costoso ecco pensate a quanto è vasto e quanti nuovi trigger si potranno sviluppare la parte successiva quindi questo otto sdraiato di esplorazione e valutazione viene invece esploso e vengono accelerate e potenziate dall'intelligenza artificiale tantissimi questi percorsi che se prima erano imprevedibili adesso diventano ancora più imprevedibili quindi se il passaggio dal funnel classico al messy middle dice guardate che l'utente farà un mucchio di selezioni prima di scegliere adesso farà un mucchio di selezioni chissà guidato da chi chissà guidato come chissà passando per quale input e se siamo ancora legati per esempio alla keyword di ricerca scarpe da running adesso dobbiamo prepararci che le keyword non saranno più scarpe da running ma sarà una ricerca privata su google dove dico scarpe da running per andare al lavoro e quindi al lavoro devo fare un pezzo in collina però devo essere anche un pochino formale se mi conosci sono una persona che può spendere molto poco fammi vedere quali sono le migliori per me e qui il concetto di keyword crolla e questo lo stiamo vedendo anche nel contesto per esempio del pay per click che vediamo tra un pochino nel messy middle erano stati ben codificate sei bias cognitivi cioè sei cose che potevano portare l'utente a scegliere un prodotto piuttosto che un altro quindi euristiche di categoria quindi le scarpe hanno delle categorie sulle quali venivano valutati le canne da pesca hanno delle categorie sulle quali vengono valutate le biciclette elettriche hanno delle categorie sulle quali essere valutate quindi la bicicletta elettrica avrà come euristica di categoria il numero di chilometri che posso fare la pesantezza la sicurezza quali saranno le nuove euristiche di categoria con l'intelligenza artificiale quelle magari che deciderà di darci il motore di ricerca potere dell'immediatezza probabilmente rimarrà perché avere la cosa subito mi converrà sempre ma la riprova sociale rimarrà oppure sarà meno importante la riprova sociale se il mio assistente del quale mi fido tanto mi riesce a dire che è un ottimo prodotto che magari è piaciuto non a tutti ma alle persone come me pensate poi al bias di autorità quindi magari se su una scarpa da running prima volevo che fosse usata dal campione dei 100 metri adesso magari conterà un po' meno per me che è usata dal campione dei 100 metri ma mi basterà sapere che il mio assistente mi ha detto che è la migliore per il piede fatto come il mio ok sto esagerando sto sicuramente esagerando ma poniamoci questo tipo di problema perché saranno rivoluzioni nel marketing digitale e non sappiamo cosa succederà non sappiamo dove stiamo andando e tra quanto però una curiosità che ciascuno a casa sua può chiedersi è quante scelte già adesso nella sua vita delega l'intelligenza artificiale quanta musica che ascoltate la scegliete voi e quante volte invece scegliete un artista o un brano e poi è spotify youtube a farvi sentire il grosso delle canzoni quante volte fate partire un video su tiktok youtube facebook e poi i successivi vengono fatti partire da un'intelligenza artificiale quante volte le notizie che leggete le andate a cercare voi quante volte andate a comprare il giornale perché volete sapere proprio quel tipo di fonte e quante volte invece cercate su google rialzo dello spread e decide google in che posizione mettere le varie notizie e quando aprite google discover se lo utilizzate chi è che decide che cosa va lì e allora se siamo già così abituati a delegare agli algoritmi e delegare a queste grandi piattaforme ma allo stesso amazon voi cosa ne sapete di come vengono indicizzati scelti i prodotti da mettere in alto su amazon su certi prodotti ciascuno di noi ha più competenze e quindi va a fare talmente tante confronti che ne sa di più ma su tanti prodotti magari a parità di prezzo per noi è veramente difficile orientarci su un pneumatico se non siamo amanti dei pneumatici o su un mouse se non siamo degli amanti dell'elettronica quindi quante scelte siamo abituati a delegare e allora chissà che presto non delegheremo se già lo stiamo facendo ma non ce ne rendiamo conto a questi algoritmi di decidere per noi quali sono i migliori brand o a questi assistenti di raccontarci un po' quelle che sono le loro verità c'è tutta una letteratura sul fatto che i social media hanno creato tanti mondi dove ognuno ha la sua bolla di verità pensiamo che cosa potrà succedere con questa dilagante supporto che richiederemo all'intelligenza artificiale usciamo un attimo facciamo un attimo uno zoom indietro rispetto al panel di conversione che abbiamo detto avrà forse una parte di branding più alta meno importante il trigger che sarà sempre diverso sempre più occasioni di avere il trigger di acquisto quindi magari un'immagine con un commento sono fuori da una vetrina faccio la foto e scopro se il prodotto mi interessa eccetera è un assistente forte che starà sempre con noi quindi una una maggiore importanza della di far capire al meglio i miei prodotti i miei servizi e le intelligenze artificiali mentre invece una relativa meno importanza del branding prima ma allora questa rivoluzione che va sul lato dell'utente come si ripercuote sulle aziende e come si ripercuote sulle strutture che fanno marketing digitale quindi facciamoci queste due domande cosa cambia per le aziende e di conseguenza poi una parte che ci interessa di più perché cosa cambia per le aziende è una domanda molto alta alla quale nessuno momento non ha risposta e cosa cambia invece per il team digital beh pensiamo anche cosa cambierà in generale sul mercato proprio anche per queste differenze che abbiamo visto nelle abitudini di acquisto ma non soltanto ho preso due affermazioni che sono speculari nell'intensità cioè che sono uguali nell'intensità ma molto differenti nella narrazione la prima è del CEO di Alphabet la società che è proprietaria tra le altre di Google e ci dice che l'intelligenza artificiale sarà probabilmente il cambiamento più profondo dell'umanità più profondo dell'invenzione del fuoco dell'elettricità e di qualsiasi altra cosa che abbiamo fatto in passato quindi molto grande certo stiamo chiedendo un po' all'oste se il vino è buono sicuramente però attenzione perché loro hanno alcun punto di vista dove difficilmente sbagliano queste previsioni e vediamo un'altra citazione di Elon Musk che dice che l'intelligenza artificiale si potenzialmente anche se è molto poco probabile ma non così poco probabile potrebbe distruggere il mondo come lo conosciamo potrebbe distruggere la nostra civiltà non so se qui qualcuno di voi ha visto il film sulla progettazione della bomba atomica Oppenheimer se l'avete visto quest'estate non vi spoilerò nulla però siete amanti della fisica quantistica o avete visto il film sapete che al momento del primo test Enrico Fermi ha detto ma c'è la piccola probabilità che fare questo test bruci l'atmosfera e distrugga la civiltà ecco prendete questa come una metafora non metafora che ci possa far riflettere ma allora cosa ci interessa ci interessa pensare che questi saranno cambiamenti fuori scala pensate all'elettricità un altro indicatore che ci fa capire quanto velocemente può succedere quello che sta per succedere che ci deve dare idea dell'urgenza di muoverci rispetto all'intelligenza artificiale è la comparazione di quanto le varie tecnologie ci hanno messo raggiungere i 100 milioni di utenti non hanno senso erano altre epoche il telefono ci ha messo 75 anni internet 7 facebook 4 anni e mezzo tiktok che era un social network quindi aveva bisogno di persone per farsi vedere altre persone 9 mesi c'è gpt 2 mesi ora gli utenti sono chiaramente in calo è stata una bolla enorme pensate quanto c'era necessità adesso ancora il problema grosso è che nessuno riesce ancora a capire bene cosa fare con queste con questo enorme potenziale però sono numeri assolutamente significativi che ci devono dare l'idea di quanto sarà veloce il cambiamento cioè sarà un'onda che se è stata forte l'onda dei social network se è stata forte l'onda di internet quest'onda sarà parecchio più veloce e cosa cambierà sulle aziende beh la prima cosa che mi viene in mente è che quando fai consulenza senti tipicamente due generi di storie senti la storia di chi ti dice beh se fossi stato il primo a fare la vendita di canne da pesca su internet le cose sarebbero state molto più facili per me perché sono arrivati dopo alla vendita delle canne da pesca su internet sono rimasti con il loro negozio offline per magari 5-6 anni di troppo oppure l'altra storia che sentiamo è beh siamo bravi a vendere canne da pesca ma noi siamo stati i primi a vendere canne da pesca su internet per questo abbiamo un vantaggio e questa è l'altra storia di chi invece pensa di essere stato unire gli adopter ecco siamo nell'esatto momento in cui i primi che riusciranno a integrare nei loro processi produttivi nella loro logistica nella loro azienda l'intelligenza artificiale svilupperanno probabilmente un gap forte come chi è stato il primo ad andare su internet e c'è da sbrigarsi c'è da sbrigarsi perché la curva di apprendimento non è per niente banale per quanto giocare con CiaGPT sia semplice non è assolutamente semplice in questo momento mettere insieme tutti i pezzi database big query creare dei database di competenze di conoscenze interne dare una forma ai dati affidare l'intelligenza artificiale tirarci fuori del valore ora è molto complicato poi tornerà a essere semplice sicuramente ma quando tornerà a essere semplice sarà tardi per essere stati i primi fare un e-commerce vent'anni fa era molto complicato adesso con Shopify è facilissimo ma è infinitamente più difficile avere le capacità il mercato e i clienti progressi che ha chi invece si è mosso vent'anni fa quindi la curva di apprendimento non è per niente banale quando sarà facile imparare a usare certi strumenti probabilmente ci sarà qualcuno che si avrà già sviluppato un bello scalino bisogna sbrigarsi anche perché servono dati e non si creano in un giorno e serve fare tentativi quindi più dati si hanno più si è veloci nel testarli più migliore la performance degli algoritmi che abbiamo in più c'è da sbrigarsi perché noi stiamo vedendo dalla parte del marketing che spesso nel settore dell'innovazione è stato ed è il trascinatore quindi vediamo che il marketing è la cosa che porta il cliente in azienda che porta le nuove tendenze in azienda ma l'intelligenza artificiale sarà sicuramente molto più grande del solo marketing cambieranno tutti i prodotti cambieranno i modi di distribuire prodotti cambieranno i servizi erogati direttamente o i servizi connessi ai prodotti quindi la rivoluzione sarà multisettoriale se noi del marketing che siamo storicamente quelli un pochino più bravi a portare l'esigenza del cliente a far capire il mercato per definizione agli stakeholder in azienda non ci muoviamo rischiamo veramente che tutto sia lento e se questo è un po' quello che cambierà per le aziende che cosa cambierà per i team che fanno marketing cioè per chi è dalla parte della barricata come noi e magari in azienda è l'unico a fare marketing oppure in azienda ci sono tante persone a fare marketing oppure in un'agenzia dove fa marketing allora vi racconto una storia che è la storia di un advertiser di una persona che fa advertising su google ma anche su meta ma potrei dire veramente qualsiasi piattaforma ma su google e meta è più interessante che vada al cliente e gli chiede dei soldi perché ovviamente sono piattaforme che vanno a soldi gli chiede dei contenuti perché ovviamente ha bisogno di creatività di testi eccetera e gli chiede degli obiettivi che tipicamente semplifichiamo possono essere di numero di lead raccolte possono essere di fatturate ecco adesso tipicamente la storia del responsabile di questa campagna che parla con il suo referente che gli ha dato quindi il cliente gli ha dato soldi contenuti obiettivi da queste tre cose in pasto al suo advertising specialist o all'agenzia che gli segue l'advertising e l'advertising specialist comincia a raccontare una storia e dice grazie per queste tre cose ho messo tutto dentro una grande black box quindi l'ho messo in google ads e ho fatto una performance max l'ho messo in meta e ho fatto una campagna advantage plus questa cosa è finita in altre due black box nella black box 2 nella black box 3 poi l'uscita della black box 2 su questa mi ha dato un dato ho qualche numero più o meno corretto quindi so più o meno magari quante sessioni ha generato sbagliando del 10% della black box 3 non so assolutamente niente tutto è finito in un enorme grande black box che può essere google analytics 4 o che può essere chissà quell'algoritmo che mi seleziona il target migliore e da qua ho un fatturato che in grosso modo è attribuibile alle campagne che ho fatto storie enormemente complesse che per noi era impensabile poter raccontare così proprio perché eravamo abituati a vendere il digital marketing come una cosa misurabile precisa puntuale ma adesso non è più così perché prendete pure i più bravi specialist che ci sono che cosa viene fatto dalle singole campagne nei singoli target spesso non lo sappiamo spesso le parole chiave che vengono comprate con il vostro budget con il budget del cliente non le sappiamo spesso il formato che viene visto su meta non lo conosciamo sappiamo che può essere uno di questi 500 formati ma non sappiamo esattamente quale formato ha portato quale click e se questo è il mondo nel quale dobbiamo vivere quindi c'è questa grande incertezza quali sono le competenze che dobbiamo sviluppare beh ovviamente dobbiamo studiarle queste black box dobbiamo fare in modo che la parte considerata black di queste box sia sempre più piccola dobbiamo sicuramente essere sempre sul pezzo per capire le innovazioni che ci sono lato contenuti nuovi trend quali sono gli obiettivi più intelligenti da settare come distribuire i budget quindi c'è una parte di studio che è ancora più grande di prima ma volendo però non si tratta più di essere precisi si tratta di essere bravi e di saper coniugare un pensiero strategico a delle azioni molto mirate sapendo che siamo a che fare abbiamo a che fare con delle scatole nelle quali non sappiamo bene che cosa c'è quindi dobbiamo avere la capacità di capire che cosa succede anche se non lo sappiamo esattamente perché non lo vediamo più come prima dobbiamo avere la capacità di misurarlo e dobbiamo avere la capacità di dare un indirizzo anche se non possiamo più scegliere la parola chiave non possiamo più scegliere esattamente il formato dobbiamo comunque mantenere una comprensione tale una capacità tale da poter dire al cliente beh andiamo verso la vendita di quel tipo di prodotto o andiamo verso quel tipo di comunicazione anche se non abbiamo più il controllo su quel banner non abbiamo più il controllo su quella parola chiave sappiamo che c'è dell'incertezza sappiamo che non avremo più un controllo totale ma noi vivendo su questa incertezza rinchiusa in una black box che non sappiamo come funziona ma che sappiamo abbastanza bene come reagisce ai nostri stimoli dobbiamo essere in grado di mettere i nostri committenti i nostri clienti il nostro superiore in condizioni comunque di poter impostare una strategia nonostante ci siano queste black box comunque di saper agire tatticamente sugli elementi che abbiamo anche se non abbiamo più un controllo puntuale su ogni singolo elemento quindi la narrazione del digitale preferito agli altri mezzi perché perfettamente controllabile crolla ma rimane la capacità la velocità di misurare direzionare comprendere assestare il colpo che tanti altri canali non hanno l'altro grande aspetto che cambierà e ovviamente se ci sono delle domande fatele pure in chat e cercheremo di rispondere veramente a tutti durante questo momento quindi fate pure tutte le domande che volete allora dicevo l'altro aspetto è che la gestione dei singoli canali avrà sempre meno importanza perché perché passeremo molto meno tempo a giocare con il singolo click con la singola keyword con il singolo costo per click con il singolo segmento con il singolo formato eccetera ma invece passeremo molto più tempo ad integrare e che cosa integreremo integreremo per esempio i dati dei clienti con i dati del marketing quindi cominceremo a dover passare ad analytics sempre più dati dovremo agganciarci alle basi dei clienti per sapere quali sono i prodotti per esempio che hanno di più in magazzino oppure quali sono le caratteristiche dei loro migliori clienti dovremo iniziare a integrare degli indicatori di business non degli integratori di performance della singola campagna quindi qual è il ritorno dell'investimento ma per esempio sappiamo quale prodotto è reso maggiormente c'è un impatto tra le campagne che facciamo e il numero di resi tutti i prodotti hanno la stessa marginalità tutti i nuovi clienti che acquistiamo che acquisiamo hanno lo stesso lifetime value cioè quindi hanno lo stesso valore generale per l'azienda nel nel magazzino ho lo stesso numero di prodotti di tutte le occorrenze oppure c'è qualche cosa che mi sta rimanendo in giacenza in vendute quindi probabilmente lo voglio vendere prima ecco cose sulle quali prima non ci potevamo permettere di perdere tempo di investire tempo adesso diventano fondamentali e ci possiamo permettere di passarci di investirci del tempo perché perché la parte più più macchinosa più cervellotica che richiedeva un controllo costante di analisi del singolo click del singolo annuncio se la sono portata via gli algoritmi e se la fanno gli algoritmi e ancora c'è una parte di integrazione che invece è propriamente da system integrator quindi c'è una parte di integrazione da informatici da ingegneri dell'informazione sappiamo che meta google ads analytics gli strumenti con i quali mangiamo e che sono fanno parte della quotidianità del team di marketing il meccanismo di invio delle newsletter avranno sempre più bisogno di dati e dovremmo essere sempre più bravi per esempio a prendere i dati nel PIM nel CRM nel CMS nel data lake aziendale e passarli correttamente formattati a google per avere lo schema perfetto passarli correttamente formattati a facebook per sapere quali sono le lead che hanno performato meglio passarli correttamente formattati ad analytics per avere una reportistica che magari ci permetta di sapere qual è la campagna che ci ha generato il più alto i clienti con il più alto lifetime value quindi un gioco sicuramente più più complesso dove questa volta integrazione è proprio un'integrazione dei sistemi informativi quindi capire quali sono i linguaggi di queste piattaforme lo strumento di feed management l'API di BigQuery i vari trigger i vari API di meta eccetera e come possiamo far parlare i PIM i CRM i CMS in generale le basi di dati non strutturate che hanno le aziende con queste basi che invece devono essere strutturate e una volta commesso dentro i dati allora sì che posso magari lasciare l'intelligenza artificiale fare il meglio per il mio cliente complicato sì ma è un percorso che sicuramente sconvolgerà i team di marketing nei prossimi mesi lo sta già facendo in realtà e allora andiamo nella seconda parte del nostro racconto abbiamo visto quanto sono cambiate le tecnologie e quanto sono cambiati i percorsi di acquisto degli utenti e allora facciamo un riassunto ma che voglio avere uno sguardo sul futuro su che cosa sta cambiando nella web analytics allora il grande elefante nella stanza nel mondo della web analytics è sicuramente google analytics che è lo strumento che ha sicuramente la più alta market share in italia e non solo in italia è lo strumento che fa diciamo così che definisce la grammatica di che cosa è la web analytics poi ci sono tanti altri strumenti ugualmente validi ma con un market share molto minore e google analytics per forza o perché forzato o per caso ha deciso di cambiare il modo di tenere i dati e questo racconto è un racconto che fa si collega al funnel che abbiamo visto prima perché c'è da adeguarsi a un mondo completamente nuovo e lo sta facendo l'ha fatto google con il passaggio a GA4 quindi vediamo un attimo i cinque grossi punti che sono stati cambiati passando da GA4 all'universal analytics e cerchiamo qua dentro le modifiche a una strategia di marketing integrata che deve fare i conti con l'intelligenza artificiale con utenti che sono sempre più connessi in un funnel che ormai non è più il classico imbuto la prima differenza il primo gruppo di differenze tra GA4 e universal analytics è quello che chiamiamo durabilità ossia si passa da una logica pensata sui cookie quindi universal analytics era 100% basato sui cookie voi aprivate il browser web entravate sul sito eravate un unico cambiavate il browser eravate un altro unico vi andavate al cellulare eravate un altro unico a strumenti che siano in grado di proteggere maggiormente la privacy dell'utente quindi non i cookie ma che siano in grado di resistere a a questi passaggi di browser e quindi google crea tutta una un fiume di di nuovi strumenti per identificare l'utente e vediamoli da questa schermata di analytics in colonna abbiamo come prima opzione in analytics per capire che quell'utente è proprio un unico ma non sono cinque volte marco da cinque browser differenti marco quadrella che apre dal pc del lavoro marco quadrella che apre dal pc personale marco quadrella che apre dal suo cellulare ma qual è il primo strumento per dire che è marco quadrella il primo strumento per dire che è marco quadrella è utilizzare gli id utenti quindi se marco si logga al sito di aruba business che sia loggato da computer del lavoro computer di casa o cellulare c'è una modalità per fare in modo che se marco si logga e nel settaggio dico questo è marco quadrella a ga4 ga4 mi permette di considerare quello come un solo utente quindi è sempre marco l'unico che fa tutte queste azioni questo approccio c'era già e l'universal qua diventa nativo secondo approccio non ho l'id se ho l'id se il sito è in grado di darmi l'id perché sa che quello è marco quadrella perché è loggato non uso nessun altro approccio ma facciamo finta che marco quadrella non si sia loggato sia sul pc di lavoro che sul pc di casa che sul cellulare allora che strumenti ho per sapere che quello è proprio soltanto un unico accesso a google sul mio cellulare sul mio chrome di casa sul mio chrome di lavoro anche magari con email differenti ma che google riesce ad associare la stessa persona allora sarà google a fornire il mio servizio e a dirmi guarda che questo è il solito unico pensate che che salto in avanti terza opzione id dispositivo e qua sono i cookie quindi soltanto se non c'è di utente soltanto se non sono logato su google in terza istanza arrivano i cookie che prima erano sostanzialmente il primo e unico strumento cookie per la parte browser se si parla di app web c'è un id differente che non è un cookie ma funzionalmente funziona uguale e quindi in terza istanza si utilizzano i cookie e poi e poi sappiamo che siamo portati ad avere delle maschere sempre più invasive sui siti dove noi dobbiamo accettare che vengono messi i cookie se noi non accettiamo i cookie cosa succede si perde tutto no anche se non accettiamo i cookie e questa è una grande funzionalità di GA4 google sapendo quante persone hanno accettato i cookie sul vostro sito cercano di modellare e darvi un totale anche se non sapete esattamente quante persone sono entrate cioè se 1000 persone entrano sul vostro sito 600 vi danno l'ok a mettere i cookie e 400 no google è in grado di stimare quel 400 soltanto GA4 è in grado di stimare quel 400 vedremo tra poco quali sono gli approcci che utilizza per stimare i 400 in passato era semplice pensate a un percorso di conversione dove l'utente entra nella sorgente mezzo entra sul sito internet parte tag manager parte il tag standard di GA4 sulla thank you page parte tag manager parte il tag standard di GA4 converte e quindi quella sorgente mezzo ha fatto 89 euro di fatturato adesso tutti i siti che lavorano con gli utenti europei sono obbligati ad avere una concept management platform chiamiamola cmp abbreviandola ve la potete sviluppare voi o potete utilizzare una dei vari provider che ci sono in circolazione e quindi si creano due alberi differenti se l'utente vi dice ok metti i cookie se l'utente vi dice non ok non mettere i cookie se l'utente vi dice ok e metti i cookie avete esattamente lo stesso tracciato di prima quindi c'è il tag sulla home page parte il tag sulla pagina di acquisto c'è l'acquisto e viene ricondotto alla sorgente mezzo se l'utente vi dice no non mi tracciare non parte nulla su non parte non c'era tag manager prima con l'universal analytics non c'era l'universal analytics sulla pagina di te in queue page e quindi non vedevate nulla ma la grande differenza di GA4 è che ha abilitato il consent mode il consent mode è una modalità per integrare analytics in maniera furba con le consent management platform quindi con le varie con i vari fornitori di banner per capirci e questo permette un'implicazione ancora più interessante quindi se l'utente dice ok lo tracciate come sempre se l'utente dice no però fate partire lo stesso tag manager e fate partire GA4 dicendo non mettere i cookie non c'è il consenso fate partire GA4 dicendo non mettere i cookie non fai il consenso neanche sulla landing page quindi in realtà ho un'informazione in più che è compliant con la GDPR che è compliant con la cookie policy ma che permette a Google di stimare che c'è qualcuno che è entrato e non mi ha dato l'ok quindi ho un'informazione in più molto significativa e come funzionano questi strumenti di modellazione che Google ha integrato in GA4 vediamo un esempio da una slide di Google che è riferito nello specifico al tracciamento delle performance delle dei click sull'advertising facciamo finta che abbiamo mille click sull'advertising prendiamo un esempio non realistico il 50% mi dà il consenso il 50% non mi dà il consenso allora ho la riga di sopra e di quelli di sopra ho tutto cioè ho che hanno fatto 500 consensi facciamo finta che ho visto 50 conversioni e quindi sono il 10% di tasso di conversione 50% di consensi 50% di conversioni e questi sono ho visto ho visto 50 conversioni ma ci sono state 50 conversioni? No Google stima sa che ci sono stati 50 click che poi non hanno dato il consenso lo sa perché ho messo il consent mode che ci sono questi 500 non consensati unconsensate non so neanche come si possa leggere 500 click che poi non hanno dato il consenso utenti che poi non hanno dato il consenso e qua può stimare una conversion rate quindi può dire se è il 10% la conversion rate di quelli che ho visto quanto possono convertire quelli che non ho visto come lo stima Google quant'è questo tasso di conversione lui ci dice soltanto che fa il meglio che può e che si basa su quanti più dati può e sui migliori modelli statistici ci dice che se il 10% ce l'hanno quelli che hanno convertito chi non ha convertito sarà sotto il 10% quindi il numero il tasso di conversione di chi non ha dato il consenso sarà certamente minore del tasso di conversione di chi ha dato il consenso perché ha visto che è sempre così e qua il machine learning di Google e qui torniamo ad avere a che fare con l'intelligenza artificiale e torniamo ad avere a che fare con le black box ci dice magari che per il nostro sito per la tipologia di traffico che abbiamo per tutto quello che sa del nostro sito il nostro tasso di conversione potrebbe essere l'1,8 e allora nel report di conversione alle 50 conversioni che ha visto ci somma 9 conversioni che non aveva visto e ci dice che le conversioni sono state 59 è la verità 59 in questo esempio di Google la verità non è 59 perché dice guarda che in realtà dei 500 click non consensati per usare per italianizzare in maniera brutta un termine inglese ancora più brutto dei 500 click non consensati sono state 12 in realtà le conversioni che Google non ha potuto vedere quindi in realtà ti sei perso tre conversioni ma per noi è meglio ragionare questa è la grande domanda che ci si sta facendo tutti nella web analytics noi come numero non potendo avere il 50 più 12 che è il numero vero quindi in questo caso specifico 62 non potendo avere il 62 preferiamo vedere nei nostri report soltanto quelle viste soltanto 50 o preferiamo vedere 59 che sicuramente è più vicino a 62 quindi preferiamo lasciare a Google la possibilità di immaginarsi stimare modellare delle conversioni o preferiamo non farlo questo è uno dei passaggi nel quale l'intelligenza artificiale sta arrivando ai piani alti che ancora magari ne sono inconsapevoli ma adesso nei vostri report di analytics 4 o fate vedere il 60 70% del traffico e volete andare avanti con le performance del 60 70% del traffico che vi dà il consenso oppure dovete imparare a presentare questi numeri che sono modellati che sono semplicemente la migliore approssimazione che potete avere di un determinato valore e questo sta un po' cambiando la reportistica e anche il modo di gestire questo genere di dato però attenzione guardate che è un grande passo avanti perché noi prima con la vecchia col vecchio cookie se avessimo avuto un universal non avremmo neanche avuto l'opzione di considerare 50 o 59 ci doveva andare bene il 50 c'è un'altra famiglia ancora di modellazioni abbiamo visto la modellazione che mira a creare modelli di comportamento degli utenti c'è un'altra modellazione fatta con il machine learning che ci aiuta a attribuire caratteristiche specifiche agli utenti per esempio i tre modelli che sono attualmente pronti e che avete gratuitamente su GA4 anche se ci sono dei vincoli di traffico molto alti quindi per attivare questi modelli dovete fare tanto traffico soprattutto i modelli di revenue prediction però google attualmente già adesso sul vostro GA4 è in grado di dirvi quali sono gli utenti che compreranno con maggiore probabilità nei prossimi sette giorni quali sono gli utenti che abbandoneranno il vostro sito la vostra app con maggiore probabilità da qui in avanti e se fate dei volumi molto importanti è in grado anche di prevedere il fatturato che farà un utente nei prossimi ventotto giorni ovviamente sono sempre approssimazioni e da queste attributi che google riesce a generare su ciascun utente quindi riesce a dire non lo so l'utente marco quadrella ha la probabilità del 20% di comprare nei prossimi sette giorni l'utente marco quadrella ha la probabilità del 2% di comprare nei prossimi sette giorni mi permette di usare questi dati per creare degli audience sui quali fare advertising quindi posso fare advertising soltanto sugli utenti che hanno magari un tasso maggiore del 50% di convertire oppure posso fare un advertising soltanto sulle persone che hanno una probabilità di churn quindi che mi possono abbandonare magari più alto del 50% e posso usarli sia per fare degli audience in google ads sia per fare per vederli in analytics quindi posso vedere fatemi vedere come usano il sito le persone che stanno per andarsene fammi vedere come usano il sito le persone che possono comprare con maggior frequenza posso segmentare i comportamenti in base alle probabilità di acquisto pensate che salto in avanti quindi è vero che non ho più il controllo sul singolo dato ma acquisisco indirettamente fidandomi di google assolutamente sì mettendomi nelle mani e mettendo i piedi nella black box acquisisco dei superpoteri che prima potevo soltanto sognarmi tema del device sostanziale universal era soltanto per il web c'era firebase che era soltanto per le app adesso google analytics 4 nativamente quando voi aprite un account vi dice questo è il vostro stream di dati puoi scegliere tra web android e ios quindi in maniera nativa supporta tutte le interazioni che vengono dal web so che non interessa a tutti voi ma per chi è interessato a mappare e sapere che ha lo stesso utente sia sul web che sull'app è estremamente interessante vedere come fossero un'unica persona e poter utilizzare i pubblici come fossero lo stesso altra enorme rivoluzione qui forse è il punto di contatto più forte tra il nuovo funnel che ci siamo immaginati che ho provato a raccontarvi ancora più spinto e ingarbugliato dell'intelligenza artificiale che diventa un assistente che è sempre più vicino all'utente e che magari un giorno farà anche da trigger guarda che ho sentito la macchina fa un rumore strano sarà meglio che vai in assistenza e quindi che fa da trigger da sola e magari ci dirà che il latte che abbiamo comprato sta per scadere dobbiamo comprarne un altro e magari ci consiglia qual è la marca migliore e per andare incontro in questa direzione di un web sempre più articolato potevamo rimanere con Universal Analytics e la sua reportistica che di default dava tutto il valore all'ultimo click no e GA4 ci permette tre cose andiamo un pochino nel dettaglio più avanti ci permette la data driven attribution quindi di dare valore a ogni canale di marketing rispetto a delle statistiche guidate dai dati quindi a capire quant'è il valore di ogni punto di contatto che ha avuto Marco con il sito di Aruba prima di comprare ci permette di vedere le conversioni post engagement view quindi per esempio di vedere come azione anche il fatto che l'utente abbia visto un video su YouTube quindi io vedo un video su YouTube dove Aruba mi insegna come funziona l'hosting poi compro sul sito di Aruba mi permette di tracciare Marco come acquirente in questo percorso in Universal Analytics se avessi visto un video su Aruba senza fare di Aruba senza far nessuna azione non veniva raccolta la mia interazione non avrei saputo niente e poi ci permette la reportistica delle campagne performance max che vanno in maniera trasversale su YouTube su Discover su Gmail sulla rete di ricerca sulla rete display fanno un po' quello che vogliono entriamoci un pochino dentro al mondo dell'attribuzione perché vedete quanto torna forte il concetto di nuovo funnel di default l'attribuzione è basata sui dati cosa vuol dire come funziona l'attribuzione basata sui dati se siete degli amanti della statistica o se volete fare web analyst andate ad approfondire perché c'è tantissima letteratura su Google Analytics basta veramente che cerchiate faccio un esempio che può essere più o meno interessante per tutti sostanzialmente l'attribuzione è basata sui dati ha due grossi sottoproblemi quindi innanzitutto cosa si intende con attribuzione si intende a chi do il merito per il fatto che Marco ha fatto una sottoscrizione da 100 euro al mese su Aruba Business visto che Marco è andato sul sito di Aruba Business 14 volte prima di fare la sottoscrizione da diversi canali differenti qual è stato il canale che ha portato questi 100 euro al mese e quanti di questi 100 euro ha portato ciascun canale Google per far questo si basa scompone diciamo il problema in due problemi più piccoli da una parte analizza i percorsi che vede e i tassi di conversione di tutti i percorsi che vede quindi si vede tutto Google Analytics di Aruba Business e vede guardiamo tutti i percorsi che ci sono e analizziamo i dati di tutti i percorsi che hanno portato a un acquisto certamente se Aruba ha 10 acquisti il modello non è che impara tanto se Aruba ha 10 milioni di acquisti il modello impara tanto più utilizzerà dei modelli previsionali sui tassi di conversione come input per un algoritmo che cerca di dare il merito a tutte le interazioni che ci sono state con un annuncio vediamolo in pratica che è forse più semplice facciamo l'esempio più facile poi lasciamo agli statistici agli amanti delle reti di Markov di andare più in profondità supponiamo di aprire l'analytics di Aruba e vedere che quando c'è il percorso paid search social affiliation search quando c'è questo percorso la probabilità di acquistare è il 3% come facciamo a saperlo? beh in maniera analitica vediamo quanti sono stati gli acquisti che ci sono stati da paid search social affiliate e search in quest'ordine magari nell'ultimo mese su Aruba Business ci sono stati 400 acquisti con questa particolare conformazione vediamo che hanno convertito in 3 e diciamo che allora la conversione è il 3% bene e ovviamente se la conversione è il 3% hanno convertito in 400 deve essere 12 ma va bene speriamo che ci siamo capiti vediamo sotto invece qual è la probabilità di acquisto di chi fa un percorso leggermente differente che non ha visto la parte search quindi chi vede paid search social affiliate ma poi non entra dal motore di ricerca rimane entra soltanto da affiliate e compra che tasso di conversione ha andiamo a vedere quanti acquisti ci sono stati sull'account analytics di A4 di Aruba con questo percorso scopriamo che magari il tasso di conversione in questo caso è il 2% bene allora vuol dire che search ha aumentato il tasso di conversione del 50% e se ha aumentato il tasso di conversione del 50% quella vista SEO allora il 50% del valore di quella conversione andrà alla search se invece l'utente avrebbe comprato ugualmente no faccio un esempio pensate di togliere la brand protection e di togliere la protezione del brand se ci rendiamo conto che togliendo la brand protection quindi essere primi su google ads per Aruba business tramite il banner di Aruba business se ci rendiamo conto che se noi togliamo quel posizionamento comunque lo stesso numero di utenti Aruba a livello organico e comprano tutti con la stessa probabilità allora l'impatto di aver avuto il merito di quella chiave brand sarà 0 sarà lo 0% se invece ci rendiamo conto che essere lì fa aumentare il tasso di conversione rispetto a non esserci del 5% allora il merito sarà del 5% e così via se avete capito il concetto poi c'è tanta matematica dietro poi c'è un margine di incertezza che è tanto più grande quanti minori sono le conversioni che abbiamo quindi dato importante in GA4 chi è grosso ha tanti più dati rispetto a chi è piccolo perché queste approssimazioni su chi è piccolo sono sempre meno affidabili ma se siete grandi se siete capaci di usare GA4 potete avere dati che prima vi sognavate con Universal Analytics altro approccio e qua è un po' più metodologico si passa da un focus su tante tipologie di IT differenti a un'infrastruttura che traccia tutte le IT come se fossero la stessa interazione quindi è una cosa che interessa i tecnici ma vi fa capire come cambia il mondo quando GA4 deve pensare a un funnel evoluto non ci possiamo più permettere tracciamenti differenti per transazioni e-commerce pagina vista evento sul sito evento social eccetera ma lasciamo tutto è un evento perché è il meccanismo più flessibile tutto è un evento tutto viene tracciato in GA4 come un evento le page view sono un evento le interazioni social sono un evento gli acquisti sono un evento perché perché questa struttura qui è stra comoda e stra flessibile quindi all'interno di questo evento può esserci un'interazione con un'app può essere un'interazione con un sito web può esserci un'interazione che arriva dall'offline tutto un evento e questo strumento è super forte a lavorare su eventi quindi banalmente se in Universal Analytics era abituato a ragionare su utenti ogni utente aveva fatto più sessione all'interno di una sessione poteva esserci una page view e una social it e in un'altra sezione poteva esserci un click su una cta e poi una transazione e-commerce nel nuovo GA4 la stessa cosa me la vedo come il solito utente che ha determinate proprietà quindi magari ha una lingua magari una location eccetera che inizia una sessione che fa una page view che aggiunge il prodotto al carrello che fa il check out e io devo eventualmente ricostruirmi in un altro modo la sessione cioè il focus è sull'utente non è sulla visita del sito questo vuol dire sì è un po' più complicato tracciare le visite sui siti non è nativamente pensato sulle sessioni ma è molto più semplice pensare all'utente quindi una misurazione che sono user centriche e non sito web centriche stessa cosa sconvolge il il gli strumenti di tag management non so se utilizzate google tag manager o se qualcuno del vostro team utilizza google tag manager quello che prima era un event l'azione categoria la label di un evento c'erano delle custom dimension c'erano delle custom matrix in universal analytics diventano tutti i parametri in GA4 questa è una parte un po' più nerd però la cosa che ci deviamo portare a casa anche se non siamo dei nerd dell'analitica è che il centro dell'analisi diventa l'utente non è più la sola visita sul sito internet ok quindi pensatelo non come una limitazione ma come una possibilità di certo poi è più complicato tracciare le visite degli utenti ci sono degli strumenti che ce lo rendono comunque molto facile però in un mondo dove un funnel che non è più lineare dove tutto non succede sempre nel solito momento nella solita sessione magari neanche tutto sul sito era necessario un approccio completamente differente e questo è quello che ci ha portato GA4 ma emergono dati esigenze ancora differenti e non si può più fare a meno per esempio di Big Query perché perché i dati GA4 ritiene massimo 14 mesi perché i dati di Universal Analytics verranno a un certo punto cancellati e voi ve li dovrete salvare e perché i report che trovate sono spessissimo hanno spessissimo una soglia la cosa che dovete fare in quest'ottica è portarveli in casa portarvi in casa questi dati portarveli tipicamente chiaramente Google spinge il suo strumento in cloud che è Big Query e vorremmo mandare giusto perché siamo nel finale intanto che magari pensate delle domande questo video in muto sotto una volta che i dati di Analytics e non solo i dati di Analytics sono in Big Query in questo esempio Google ci fa vedere che bastano pochi minuti per utilizzare noi stessi l'intelligenza artificiale in particolare il machine learning sui nostri dati e ci dice guarda che basta veramente qualche query per tirateci dentro i vostri dati i dati che vedete nel vostro SQL eccetera e noi una volta che i dati sono su Big Query vi mettiamo in condizioni lavorando molto velocemente con una frazione dei costi con una frazione dell'impatto ambientale eccetera di analizzare i dati e farci delle analisi sopra estremamente complesse da un punto di vista statistico eccetera con quello che si chiama Big Query Machine Learning quindi questo un po' a chiudere tutto il funnel il percorso da un funnel che viene stravolto dall'intelligenza artificiale noi che ci dobbiamo affidare quindi alla fine delle basi di dati nostre perché Google non si vuole più tenere i nostri dati sui suoi server mai ce li vuole dare all'interno vuole che ci riportiamo nei nostri Big Query che noi si diventi proprietari una volta che ne siamo proprietari siamo noi i creatori della prossima black box e possiamo addirittura a farci in maniera abbastanza rapida dei calcoli sulla delle analisi di Machine Learning cosa ci resta da fare allora in questi tempi burrascosi si perde importanza nel saper dire qual è la verità non è così importante avere il consulente che ti sa dire la verità che ti sa dire cos'è quello che succederà ma sarà molto più importante cercare persone che abbiano la capacità e la visione sull'intelligenza artificiale sui nuovi fan sulla nuova idea di marketing integrato sulla nuova web analytics per mettervi in condizioni di ritracciare costantemente una rotta che sarà ancora più volte modificata nelle vostre organizzazioni date modo a quest'ondata non siate non opponetevi a quest'onda dell'intelligenza artificiale l'unica alternativa che abbiamo probabilmente è fare in modo che emergano i nuovi leader nelle aziende oppure che i leader che non vogliono abbracciare l'intelligenza artificiale abbiano modo di non essere più leader cioè è un'ondata talmente forte che non possiamo permetterci gli errori che magari abbiamo fatto in passato se li abbiamo fatti di bloccarci rispetto a delle innovazioni come potevano essere internet perché questa ondata farà tanti più ricchi e tanti più poveri sarà una data ancora più potente anche nel settore digitale senza considerare l'impatto che avrà sulle professioni meccaniche sulle professioni ripetitive eccetera e l'ultimo l'ultimo invito è guardate oltre i confini del marketing noi abbiamo visto tanti aspetti di marketing abbiamo visto come cambia la GA4 rispetto all'Universal Analytics abbiamo visto come cambia il percorso di acquisto degli utenti ma subito sotto e subito intorno penso spero di essere riuscito a darvene visione ci sono tantissime altre componenti cioè come è fatto il prodotto se abbiamo un prodotto che è in grado di fornirci dati se quando eroghiamo un servizio prendiamo dei dati in input se il nostro responsabile della logistica ci fornisce i dati ai quali possiamo accedere se il nostro finance ci fornisce i dati ai quali possiamo accedere se il nostro magazzino ci fornisce i dati ai quali possiamo accedere se la nostra rete vendita ci fornisce i dati ai quali possiamo accedere quindi mai come in questa fase è importante a espanderci oltre i confini del marketing come visione e cercare di alfabetizzare le novità che ci sono alle novità che avranno gli utenti nello scegliere a che partner affidarsi e a che cosa si aspetteranno che facciano i prodotti o come si aspetteranno che vengano erogati i servizi utenti sempre più isolati con il loro agente artificiale che gli consiglierà sempre più cose la cosa positiva è che noi che abbiamo fatto marketing questa visione verso il resto ce l'abbiamo sempre avuta quindi probabilmente come è stato in passato ma qui chiaramente parla anche un fabbro che cerca di risolvere tutti i problemi con il suo martello perché quello sa fare ma abbiamo davvero la sensazione che il marketing abbia un vantaggio nell'essere in grado appunto di ascoltare il mercato di vedere cosa cambia sul mercato cosa cambia su google cosa cambia su google ads cosa cambia lato seo ma anche cosa cambia su meta cosa cambia su tiktok eccetera e vi porteremo in questo percorso nei prossimi sei mesi con le prossime cinque puntate per cercare non soltanto di darvi strumenti per migliorare le vostre strategie di marketing ma anche per aiutarvi a portare l'innovazione in azienda in tutti i settori che riuscirete a raggiungere grazie e abbiamo cinque minuti per le domande se ce ne sono altrimenti intanto allora vediamo se ci sono domande allora mi dice con la regia che ce ne sono sicuramente due allora partiamo da ragioniamo su come poter intuire il comportamento delle black box al netto dei risultati che otteniamo ok allora non è banale non è banale saper esattamente dire come funziona una black box però è anche sbagliato rifugiarsi dietro il beh ma non so la performance max è una black box io gli do i dati in ingresso quello che succede in uscita non mi interessa la tecnica principale ci sono tanti modi che si ha di approcciare questo problema il primo è quello del garbage in garbage out ossia guardate quanto sporco buttate dentro e cercate di rendere più pulito possibile quello che buttate dentro la black box due cercate strumenti di comparazione per vedere quanto è sporco quello che esce fuori faccio un esempio il consent mode vi dice che ci sono state 59 vendite ma voi da db sapete in totale in quel mese quante vendite ci sono state oppure voi avete modo tramite degli script di andare a interrogare andare a vedere segmento campagna per campagna dove vengono spesi i vostri soldi e quindi magari rendervi conto che avete una spesa eccessiva su youtube rispetto a quello che volete su una performance max o sul tipo di formato dell'advantage plus quindi la tecnica principale è questa che si chiama garbage in garbage out tecnica se ne parla da quando esiste il machine learning e da quando esistono i sistemi complessi cercate di capire quanto sporco buttate dentro e di misurare quanto sporco esce fuori quello che funziona dentro paradossalmente potrebbe quasi interessarvi di meno non so se vi ho risposto se è stata troppo filosofica posto che piano piano tutte queste black box saranno sempre più chiare il problema è che quando poi diventano troppo chiare smetteranno di essere uno strumento in grado di darvi magari tutto questo vantaggio competitivo luisa ci dice meno gestione più integrazione possiamo intenderla anche come collaborazione integrazione tra team sales e marketing s marketing in generale sarà sempre più fondamentale dare centralità al marketing facendolo dialogare con i vari comparti di un'azienda di un cliente eccetera ecco qua torni un po' al mio punto finale luisa grazie per la domanda beh chiaramente noi qua facciamo marketing e siamo abituati a pensare che quindi la salvezza del mondo sarà dal marketing come appunto il fabbro se ha un problema si porta dietro il martello ma perché quello che sa usare probabilmente avrebbe più difficoltà a portarsi un'uncinetto ma sicuramente noi dobbiamo però vedere quello che tocca a noi quindi non possiamo metterci a ristrutturare l'azienda noi possiamo fare marketing è sempre più importante lavorare col sales assolutamente sì prendiamo non lo so il caso tipico di una qualsiasi attività di lead generation quindi qualsiasi campagna di marketing che abbia come fine l'ottenere un lead che poi dovrà essere in qualche maniera lavorato da una qualche forma di rete vendite ormai noi or riusciamo a integrare i dati che ci dà la rete vendite all'interno del ciclo oppure noi non abbiamo più speranze di essere competitivi cioè è troppo quello che ci perdiamo per non prenderlo quindi per esempio ci aspettiamo di contare i lead che fanno le campagne contare questi di quanti lead siano marketing qualified lead quindi magari nel form chiediamo 5 domande se ci sono 3 risposte di un certo tipo allora è un marketing qualified lead è un lead buono prendiamo poi il feedback che chiamiamo sales qualified lead quindi quando la rete vendite lo chiama questo risponde ed è effettivamente un target e poi vediamo quanti hanno chiuso quindi abbiamo 100 lead 80 marketing qualified lead che quindi merita che il sales chiami di questi 80 50 sono stati chiamati dal sales e di questi 30 hanno comprato quindi questo funnel dobbiamo avercelo anche in facebook dobbiamo in meta dobbiamo avercelo anche in google ads o quanto più di questo funnel dobbiamo avercelo anche lì dentro il crm servono a questo ma ci sono anche altri modelli di integrazione perché se noi non riusciamo a dare questo funnel rischiamo di ottimizzare magari per quelle persone che poi non sono qualificate per il marketing o qualificate per google ads o qualificate per il sales o qualificate che poi possono comprare quindi quanta più visione abbiamo dell'imbuto e quanti dati noi portiamo sopra tanto è quindi sicuramente questa integrazione era fondamentale ed è ancora più fondamentale in un mondo che è ancora più guidato dai dati dove noi dobbiamo lasciare le mani libere all'algoritmo non possiamo più dire midda su questa parola chiave piuttosto che su questa oppure punto su questa qualità piuttosto che su quest'altra noi abbiamo nel lungo termine un vantaggio se gli diamo le mani libere all'interno di obiettivi sempre più vicini al business e questo è l'esempio su mercati basati sui lead ma su e-commerce è la stessa cosa cioè se noi invece di biddare sul ritorno dell'investimento inteso come fatturato impariamo a biddare sulla marginalità si apre un ulteriore mondo perché noi magari scopriamo che sui calzini su 100 euro di calzini ci abbiamo rimesso per i costi di spedizione su 100 euro di un paio di occhiali ci abbiamo guadagnato 40 euro perché li abbiamo comprati a 60 ok e i resi sono uguali sui occhiali sui calzini anche forse sui calzini sono di più se noi integriamo i dati che non saranno più dei team sales ma che saranno della logistica del team che fa acquisizione eccetera allora riusciamo a fare la differenza anche sulle campagne e-commerce direi grazie mille per le domande vi lascio la mia mail e soprattutto vi invito a partecipare di tenere sotto controllo la mail e di partecipare ai prossimi appuntamenti sul sito li trovate tutti cliccate su su home e poi trovate il programma completo e invitate a questa academy di Aruba Business tutti i colleghi che pensate possano essere interessati e ci vediamo ci vedrete con Giorgio Taverniti il 24 ottobre sempre ai 16.30 buona serata grazie mille grazie mille grazie mille